Sponsored by Lineeleco, da sempre in moto verso il futuro, lineeleco.it Impresa Valassi, fermo e franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassiff.it Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it Mister, è mezzo delitto o un delitto intero per vincere questa partita? Un delitto intero, con tutto il rispetto che ho per l'alcora e che sono stati bravi, ci hanno creduto e hanno rimesso in piedi una partita dove ormai sembrava noi avessimo messo i binari giusti Nel senso che per 80 minuti la squadra ha sofferto quando c'era da soffrire, senza concedere grandi cose Però abbiamo fatto due gol, abbiamo creato tante occasioni, abbiamo preso una traversa Credo che sul 2 a 0 la partita sembrava finita dopo Purtroppo abbiamo smesso di giocare da squadra, non so se abbiamo calato l'intensità e noi sappiamo benissimo che nel momento in cui caliamo di intensità noi andiamo in difficoltà con chiunque Soprattutto contro una squadra, figuriamoci contro una squadra forte Io sapevo che avremmo giocato contro una squadra forte Fatta di buoni attaccanti Una squadra forte che nel generale B comunque ha fatto grandi cose e che nei play-offs sta facendo grandi cose Quindi diciamo che avevamo messo la qualificazione nella maniera giusta come volevamo voi Invece è tutto da giocare Perché comunque abbiamo una partita di ritorno dove è finito il primo derby in parità e adesso ci dobbiamo giocare il secondo tempo Dobbiamo ricaricare le pire E' chiaro che essere scontenti per un pareggio fuori casa nell'andata dei play-off è quasi paradossale Però la verità è questa, che in questo momento i ragazzi più che essere contenti di aver fatto un pari sono sicuramente demoralizzati per gli ultimi dieci minuti Io francamente ho visto uno dei migliori lecco della stagione, se non il migliore in assoluto La squadra è entrata in campo bene, avevo tanta paura, è entrata in campo proprio bene, è stupito tutto Tante occasioni da reti, la solita sfortuna, poi qualche precisione sottoporta Non è una polemica nei confronti dei cambi che ha effettuato, assolutamente Però volevo capire quali sono state le dinamiche che hanno portato per esempio alla sostituzione di Bianconi con Stanga Che poi magari non c'entrano niente nei gol, però giusto per capire la dinamica con questo Bianconi e Galli non erano trame Quindi sono stati cambi richiesti, quindi non avevamo, non è stata una scelta rettata dalla situazione Stavamo facendo bene, non escavamo niente, però con tutto che ripeto sia Stanga Perché i Galli sono stati sostituiti egregiamente Mi aspettavo di più dagli altri che sono entrati, questo sono sincero, l'ho detto a loro, lo dico anche a voi Io sono sempre, ma non sono arrabbiato con loro, per carità ci può stare Però quando dico che i playoff si giocano tutti Non possiamo pensare di giocare i playoff in 11 o in 12, noi dobbiamo giocare in 25, 28, quelli che siamo Quindi sbagliare non la partita, non i passaggi non mi ne frega niente Ma sbagliare l'atteggiamento e non essere dentro la gara in una gara di playoff non va bene Questa cosa mi fa arrabbiare, mi fa arrabbiare molto perché la partecipazione deve essere totale Io devo sapere, cioè io ho bisogno di tutti, perché altrimenti noi non andiamo avanti Credo che se non sbaglio Lancon ha fatto gol con i due che sono entrati, questo è significativo Quindi io mi aspetto le stesse cose dai miei, quindi semmai mi auguro che serva da stimolo a loro per la prossima volta Perché io quando faccio entrare un giocatore non lo faccio perché non ho nulla da fare Lo faccio nella convinzione di migliorare una situazione che in quel momento ci vede magari a soccondere In quel momento siamo poi in difficoltà e quindi quello che dico sempre a loro di essere tutti pronti Perché entrare per un minuto, per 5, per 20 o per 90 significa essere importanti e quindi anche solo per un minuto si può essere protagonisti importanti E quindi da loro ma da tutto il gruppo mi aspetto questo atteggiamento, altrimenti non andiamo da nessuna parte Buonasera vista Gianmarco Minossi, il resto del cardino di Ancona alla luce di quanto visto questa sera Soprattutto negli ultimi 10 minuti ma anche nei minuti finali del primo tempo Perché era comunque un Ancona che nei minuti finali della prima frazione si era comunque rinvigorito Allora le chiedo cosa teme di più dell'Ancona, se si aspetta una partita totalmente diversa o se ricalcherà in grosso modo quella vista questa sera? Io sono sincero, io temo più la mia di squadra che gli altri perché secondo me abbiamo dimostrato per 80 minuti di essere Sì è vero, nel primo tempo c'è stato un po' di apprezzione più che altro però non è che ci avessero messo in mezzo sul gioco Invece prendere un gol al 92esimo su un gol di partenza quando tu vinci 2 a 0 non puoi prendere un contropiede al 92esimo Quando dico che non ci siamo con la testa è che abbiamo avuto un angolo al 44esimo e l'abbiamo buttata dentro ma invece bastava tenerla Forse siamo stati presuntuosi o pensavamo di averla già vinta Questo è l'errore più grande che in queste partite non hai mai vinto proprio perché gli avversari sono forti Non giochi contro l'ultimo in classifica o con una squadra dove ti puoi permettere anche di fare qualche errore L'ho già detto ai ragazzi prima di questa partita e lo ribadisco adesso Ogni errore lo paghi caro, noi abbiamo sfruttato gli errori dell'Ancona Ancora è stato bravo a sfruttare i nostri, è molto semplicemente questo Il risultato alla fine 2 a 2 lo prendiamo per buono perché comunque il palaggio fuori casa l'avremmo firmato anche prima di giocare E' chiaro che per come si era messa la partita probabilmente siamo più amareggiati noi E loro magari hanno adesso un po' dell'entusiasmo di aver recuperato una partita ormai terza Cioè non ha riconsomma di non aver ucciso la partita come si dice Lugeto, cercando un testo gol Ma certo che sì, il problema è proprio lì che noi abbiamo anche cercato un testo gol Non l'abbiamo cercato nella condizione giusta, cioè siamo stati troppo leggeri Abbiamo avuto un paio di situazioni dove potevamo concludere Invece siamo stati un po' leggeri, diciamo un po' leggeri Però va bene, per carità, ripeto, fra tre giorni dobbiamo giocare Dobbiamo ripartire dal pareggio E come ho detto, e magari quelli che sono entrati giocheranno i titolari E magari riscatteranno la brutta prestazione che hanno fatto stasera Giuliano, è Ferdiniano Vicini, è in posto di ricorda E con il sport e con il radiatico Io ho visto diverse volte che sono in livello che li ecco quest'anno Ho visto una squadra diversa stasera Con diversa nelle costruzioni della partita Hai cambiato qualcosa? Si tenuto conto delle caratteristiche che ti ho ancora O oppure perché la partita è venuta così Nel senso, l'ho visto una squadra Forse più aggressiva del solo, più offensiva No, diciamo che non so quali partiti hai visto Però diciamo che la nostra forza è proprio stata questa quest'anno Cioè noi se siamo arrivati secondi A pari minuti col Pordenone è perché siamo sempre stati aggressivi E abbiamo fatto della nostra La nostra forza migliore è il fatto di essere andati in gol In tanti giocatori, difensori, centrocampisti, attaccanti Non abbiamo un bomber vero che ha fatto 20 gol Ma i gol sono distribuiti per tutto il gruppo Proprio perché siamo una squadra che aggredisce Che riparte, che cerca di giocare E che ha uno spirito di gruppo eccezionale Come abbiamo fatto vedere questa sera No, assolutamente Anzi, probabilmente stasera hai visto la squadra La squadra che ha fatto le prestazioni migliori Le abbiamo fatte tante come questa Vicenza, Novara, Trieste Le abbiamo fatte veramente tante così come stasera In quelle circostanze le abbiamo chiusa Addirittura alcune finite due o tre a zero Io ho visto un paio di zero a zero Sì, nelle ultime partite dove eravamo Eravamo anche un po' cotti Però mi sono stato molto generalizzata Molto attenta Altrimenti non saremo arrivati lì su Altrimenti saremmo arrivati probabilmente ottavi Noi decimi Invece se siamo arrivati lì e siamo entrati oggi a fare I playoff Perché abbiamo avuto Secondo me questi ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale Quindi io do merito a questi ragazzi Per il campionato avranno svolto Adesso vogliamo toglierci delle soddisfazioni Per cercare di andare più avanti possibile Oggi per 80 minuti La sensazione che avevo è che la squadra Avesse in mano la partita senza dubbio Ma chiunque era allo stadio Ha avuto questa sensazione Dopo ci siamo un po' persi Siamo andati in difficoltà Ha preso il 2-1 Pensando forse di andare a fare il terzo gol Quando invece era più logico Gestire la partita e portarla in fondo così Ribadisco ai playoff Non si può prendere fuori casa Un contropiede a 92 Semplice E se prendo gol a 92 Con un contropiede Una partita che sto vincendo Questa cosa mi fa incazzare Semplice Va bene Grazie Grazie mister Posso fare l'Emilia Romagna Per quello che sta soffrendo E per l'alligione Un pensiero a chi Veramente sta soffrendo E che non ha più le sue abitazioni Senza pensare a quelli che non ci sono più Quest'egna che qua siamo attaccati Tutto oggi Vicino al gol per un'occasione Poi un gol Poi però che cosa è successo Lui è un difensore Non è che è colpa della difesa soltanto Però insomma Prende due goli Dove si è In esperienza credo Perché quando tutta la partita La fai in un modo Dove non pressi alto E poi Magari cominci a pressare alto All'improvviso Che non si sa perché Prende due goli Prende due goli Non lo so La squadra non matura Ecco Non so cosa dire C'è il disco Non so cosa dire Sono incazzato anche io Matteo Ecco Il mister ha parlato dei campi Di chi è subentrato Non ha fatto l'impresa Ma ha fatto intuire a chi si riferisce Vi aspettavate magari qualcosa di più Anche da qualche compagno Che vi adesso lavora in più Non credo che Quelli che sono entrati Non credo che lo fanno Non credo che lo facciano Diciamo In una malattia In una malattia In una malattia Abbiamo sbagliato tutta la squadra C'era un rappeggiamento Che non abbiamo avuto Nemmeno su 0-0 nessun 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 2-0 L'hiamo pagata L'hiamo buttata una partita Che praticamente Potevamo andare a 3-0 E invece da appregiata Andiamo a casa A giocarci La partita di nuovo Ecco Però Non buttiamo il bambino Con l'acqua sporca L'ecco per 85 minuti Ha giocato Alla partita Meritava di vincere chiaramente contro l'Ancona, partendo da quel punto di vista lì, un Lecco che non ha temuto neanche la questione ambientale, visto che c'erano dei precedenti in cui il Lecco in campi importanti aveva in qualche modo sofferto, aveva sofferto nei primi tempi in partite decisive, invece oggi fino a votante siamo andati tutto bene. Sì, è una cosa positiva, credo che c'è la crescita sotto questo aspetto. Dobbiamo farlo vedere anche nella prossima partita tra tre giorni. Altre domande? Sime, comunque c'è la presenza di gol, magari domani il minimo di piacere te lo farà? Io non ci penso nemmeno al gol, alle pagelle, io penso alla squadra, cento partite come cento uno, come due, come tre, non importa, penso alla squadra e basta. Buonasera Mister. Allora, all'inferno e ritorno direi, nel senso che sotto 2-0 il risultato del pareggiare negli ultimi semi è sicuramente un aspetto positivo. contro squadre organizzate, contro squadre che si difendono bene, contro squadre che hanno identità, che fanno questo da tanto tempo, dobbiamo per forza portare la partita su un campo che non è il loro solito. Poi hanno fatto 2-0 su un rimpallo, su un grandissimo recupero interessante, si è riuscito a fare 40 metri di scatto per mettere in posizione giusta, questo ha cercato la palla e gli è andata addosso. Abbiamo preso una seconda palla in l'area su situazioni comunque sporche, abbiamo concesso qualche tiro a una squadra che ha un tiro a una sua qualità e abbiamo creato le nostre chance. Non c'è la partita che volevamo, potremmo essere 2-0 sotto, potremmo essere 1-0 solo, potremmo essere 0-0. sono partite aperte e sappiamo che possono avere un'evoluzione nei 95 minuti inaspettata e le partite durano 95 minuti, però è ovvio che se hai giocatori in pachina come i nostri, che entrano con quella voglia, abbiamo più chance di recuperarla se non lo so. Hai detto che ci sono giocatori che iniziano e finiscono le partite, quelli che finiscono le decine, non è andato così, che cambi sono stati… Sì, non è che invento niente, dobbiamo cambiare anche questa mentalità, nel calcio ci sono i titolari, ci sono i banchinari, ci sono quelli che vanno in tribuna, cerchiamo di aprire un po' questa situazione. È un gruppo che si allena tutti insieme, si supportano, in certe partite c'è chi dà di più dall'inizio, c'è chi dà di più in corsa, c'è chi si deve giocare di più, c'è c'è, sono partite particolari, la storia è piena, anche dei mondiali di protagonisti che arrivano all'ultimo, magari uno che è seduto in pachina ha fatto un minuto, per mille motivi, purtroppo non so se usarlo, molti Lombardi, Mattioli magari entrano la partita giusta a diventare eroe in questa città, quindi è inutile dire chi gioca a più minuti di giocamento, cioè chi è andato d'altro suo, tutti sono stati al top e questo è quello che chiedono. Posso? Prego. Eccomissario, la differenza tra l'Eco Ancona è stata, che giustamente lei ha messo dei giocatori super motivati con la garra, come si usa dire adesso, che hanno poi risolto positivamente per il pareggio dell'Ancona. La sensazione, ha commentato anche il suo collega Luciano Foschi, che alcuni giocatori dell'Eco, al contrario agli sedenti, non hanno messo la stessa. Secondo me si può leggere anche in questo modo, non hanno difficoltà di cambi, non c'ereste e viceversa una panchina di gamba dell'Ancona. A me non interessa cosa fanno, cosa fa l'Eco, a me interessa i miei ragazzi, si allenano meglio di come giocano, voi li avete visto come giocano, quindi faccio tanta fatica a mettere negli undici, vorrei fare dieci cambi, vorrei far giocare 45-45 e non posso per le regole, ora le facciamo cambiare e l'Eco non so. Mi spiace, non posso aiutarti. Pris Minossi, come ti spieghi quei primi venti minuti di gare in cui l'Eco ha messo a perre il fuoco la difesa dell'Ancona? Sì. Ho visto l'Eco comunque molto più propositivo nei primi minuti, rispetto all'Ancona. Scusami, non è passato troppo tempo, non ho ancora la rivista, probabilmente l'ho vissuta nella mia sbagliata. Dopo la rivedo e ti rispondo sempre male. L'impressione era quella? Beh, non ho avuto questa impressione. Beh, comunque Perrucchini è il nostro portiere, di massimo ha la nostra mezza punta, Petrella è il nostro fantasista, spagnolo è la nostra punta, è lì per parare, ha parato. Ho visto occasioni nitidissime da dire, una volta una volta il portiere non ha sbagliato, lo stesso 2-0. Quindi Perrucchini ha fatto il gran portiere qual è? Come tutti gli altri. Matti Luccia? Prego. 83esimo, 88esimo, 94esimo e 95esimo. I quattro gol da l'Ancona nel B-Hop sono arrivati nei punti finali. Questo ovviamente è un fattore positivo perché vuol dire che l'Ancona non muore mai. Però nell'altra parte nei primi 82 minuti di ogni partita non siamo arrivati a segnale. Come si spiega, è solo un caso? Lo so se è solo un caso. Sinceramente non sono, ne ho chiesto. Diciamo che siamo fortunati che durano 95 minuti le partite. Se durassero meno, non lo so, per fortuna durano 95 minuti. La domanda è sicuramente se mi stagione, se è divertito e se conferma il balcone. Sì, potete divertire il match. E' un'altra parte. Non posso dire che sono felice con il risultato. Ma i nostri giocatori sono molto caratteri. per ottenere un risultato dopo concedere due gol. Quindi, considerando che stavamo perdendo 2-0 per ottenere il risultato 2-2, posso dire che sono satisfezziato. Almeno potrei stare meglio oggi. E' un risultato che è contento del risultato. Non aspettavo un paghetto e considerando che stava sotto due gol, siamo arrivati a spariggiare 2-2. E questa notte posso dire tranquillo, più tranquillo. una curiosità è se è divertito più stasera o più la partita che ha visto a Milano. C'è stato divertito più in questo match? O in questo match? O in questo match? Per essere sincero, io ho divertito più in Milano perché mi sento rilassato. Non importa quale squadra vincere, ma per il match oggi, sì, è stato molto tante. Sì, sì. Grazie, signor Presidente, and welcome back to Ancona. Another hurt attack. As you wrote on Instagram, after the match against Lucchese, every time you see Ancona, another hurt attack. Un altro risultato, vorrei sentire su Instagram, dopo la vittoria contro Lucchese. Yeah, exactly like what you said. For the three games you played, in the playoffs, our boys have managed to score in the last few minutes or the last few seconds of the game. And today, they showed good character to come back from two goals down and achieve a draw. So, yeah, I'd like to applaud the boys for bringing home the results. I don't know, I do. Do I do? Yes. He said he's happy because the guys this evening have shown a great character and so he can be satisfied because he had a double advantage. of course, I'm hopeful. We would like to continue to dream and progress to the later stages of the playoffs. If we can achieve a win against Carolese, I believe we can do the same at Leco. He's happy so... He's happy so... He's happy that Leco can go back and pass the game because Carolese has seen that this team can go back and do it at any time. So, he's happy also for Leco.